I cancelli questa mattina sono rimasti chiusi alla riapertura dell'istituto agli alunni dopo la pausa estiva all'interno della scuola. Infatti ci sono ancora gli operai al lavoro per completare le lavorazioni appaltate a maggio e iniziate ad agosto e non ancora concluse dalla provincia Bat. Accade a Biceglie all'interno dell'istituto superiore dell'Olio in cui alunni e docenti dovranno ancora attendere per poter iniziare l'attività didattica. Come da ordinanza provinciale si spera che entro il 19 settembre tutte le lavorazioni siano terminate ma i dubbi questa mattina davanti ai cancelli chiusi restano. C'è un ministero che parla di investimenti nella scuola, parla di investimenti nelle strutture e poi alla fine la realtà alle nostre spalle è quella che una scuola non può riaprire perché i lavori non sono finiti, non sappiamo per quale motivo non sono finiti i lavori, parlano addirittura di riaperture in una ordinanza della provincia di 5 giorni da fonti interne alla scuola mi dicono che sarà quasi impossibile riaprire fra 5 giorni quindi magari fra 5 giorni noi saremo qui a vigilare per capire se effettivamente la scuola può riaprire diritto all'istruzione che viene meno quindi come dicevo investimenti che partono da Roma sulla scuola di governi che si susseguono che alla fine non fanno altro che tagliare, tagliare ovviamente sulla sicurezza. Il ritardo sulla tabella di marcia dei lavori tuttavia come scritto nell'ordinanza della provincia e in tutte le missive scambiate tra gli enti in campo sembra nascere dopo una sorta di diatriba rannata tra la ditta appaltatrice e la direzione dell'istituto su alcune aree in cui effettuare le opere, sulle tempistiche e sulle aree esterne utilizzate un pasticce insomma per cui a pagarne le conseguenze sono solo corpo docente e alunni. Noi ci troviamo di fronte alla scuola reale, questa è la scuola reale non quella che ci viene data dall'alto con tutte le direttive PNRR e quant'altro qui abbiamo problemi strutturali, abbiamo problemi che devono soprattutto riguardare l'edilizia scolastica e di fatti noi ci stiamo soffermando effettivamente sulla parte superficiale in tutto questo chi ci rimette evidentemente, chiaramente ci rimette sono gli alunni, le famiglie che vedono l'eso un diritto al loro spettante. All'esterno dell'istituto a Samane anche alcuni alunni e alcuni genitori ma diversi anche i docenti che attendono ora la conclusione delle opere prima delle operazioni di pulizia che dovranno poi restituire la scuola alla sua naturale funzione. Ieri è arrivata l'ordinanza della provincia con la quale ci chiedeva di chiudere anzi chiudeva la scuola per ultimare i lavori ma in realtà in questi giorni la scuola è sempre stata un cantiere aperto in tutti gli ambienti purtroppo non potevamo entrare per documentare questo stato delle cose ma in ogni parte della scuola c'è un cantiere aperto.